Ben trovati con le notizie del Consiglio regionale. L'Aula ha approvato le modifiche alla legge regionale sul sistema sociosanitario. Il provvedimento accoglie la richiesta avanzata dai sindaci del Medio Lago di Como, della Porlezzese e della Val d'Intelvi di rivedere gli azonamenti sociosanitari territoriali. I comuni facenti parte della ex USL 18 torneranno così a fare riferimento alle aziende sociosanitarie territoriali Lariana e dell'Insubria. Anche l'ospedale di Menaggio sarà ricondotto all'interno dell'azienda sociosanitaria territoriale Lariana. Cambio anche nel Varesotto. L'ospedale di Angera, oggi collegato all'ospedale di Gallarate all'interno dell'azienda sanitaria socioterritoriale della Valle Olona, tornerà nell'ambito dell'azienda socio territoriale dei Sette Laghi. Le modifiche entreranno in vigore il 1 gennaio 2019. Sempre in tema sanitario, la Commissione ha intanto dato il primo via libera al provvedimento per incentivare le installazioni di telecamere all'interno dagli asili nido della Lombardia. Abbattere le barriere visibili ed invisibili per aprire le porte dei musei al maggior numero di persone. A questo sono serviti corsi di formazione per i ragazzi sordi organizzati dall'ENS al Castello Sforzesco e all'Accademia Carrara di Bergamo. Un viaggio per l'Italia per sollecitare l'attenzione sul tema dell'accessibilità dei musei alle persone con disabilità auditive. È il progetto MAPS ideato dall'Ente Nazionale Sordi e confinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Obiettivi? Stimolare le realtà museali a realizzare attività accessibili e inclusive e creare una rete di cooperazione tra pubblico servizio, beni culturali e associazionismo. Serve per far sì che le persone giovani, ragazze, 18-35 anni, possano essere inseriti in corsi di formazione che riguardano il patrimonio culturale, riguardano in generale i musei d'Italia. Qui, specialmente in Lombardia, abbiamo avuto la realizzazione di due progetti, uno a Bergamo del 15 e il 16 di giugno scorso, dopodiché a Milano il 20 e 21 ottobre, al Castello Sforzesco. Ci è sembrato importante creare un'occasione di dialogo e di scambio con i ragazzi sordi che hanno partecipato per capire in quali cose possiamo migliorare e come possiamo rendere davvero accessibile il nostro patrimonio al pubblico più ampio possibile. Cambiano le modalità per presentare le richieste di patrocino, il massimo riconoscimento con cui il Consiglio regionale esprime il proprio apprezzamento per un'iniziativa di particolari interessi regionali nei settori della cultura, sociale, educativa, artistico, sportivo, turistico e che puntano anche a promuovere il recupero delle tradizioni e delle tipicità regionali e locali. Dal 3 dicembre sarà attiva infatti sul sito del Consiglio regionale una piattaforma dedicata a caricare i contenuti richiesti. Per avere ulteriori informazioni circa le finalità, le tipologie delle iniziative e i soggetti che possono beneficiare del patrocinio, si possono leggere le linee guida della sezione per il cittadino nella pagina web istituzionale www.consiglio.regione.lombardia.it E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.